Buonasera a tutti, vorrei vicino a noi la dirigente Paola Salmoiraghi che insieme alla società economica Tigullio Crea Impresa ha collaborato all'organizzazione di questo numero zero, speriamo, di una lunga serie del Festival Zueni, che è volto a dimostrare che i giovani nel Tigullio ci sono, che ce li vogliamo tenere e che vogliamo che trovino qui occasioni di lavoro, di utilizzare i loro talenti e di sprigionare tutta la loro creatività, senza doversele andare da qui. Quindi, siccome voglio parlare pochissimo, non ho neanche il tempo di ringraziare tutti i soggetti che ci hanno aiutato, ma ringrazio comunque le istituzioni che ci hanno seguito, Regione di Chiavari, Comune di Liguria, Comune di Chiavari, la Camera di Commercio e poi tutti i nostri sponsor, tra cui, non so se è già arrivato il Banco BPM, la Duferco Energia e G-Media e Randstad, che invece vedo presenti. Quindi adesso il tempo l'ho occupato, adesso non dico più niente, abbiamo un programma molto vario, lo potete trovare tutti sulla vostra sedia e mi raccomando venite tutti quanti a tante manifestazioni perché noi crediamo che tutte meritino. E qui passo la parola a Stefano Tabornini, che è il nostro partner organizzativo. Grazie, grazie Sabina e buongiorno a tutti e benvenuti all'inaugurazione di Zueni Festival, edizione numero zero, come diceva Sabina prima. Siamo molto contenti di essere qui, di partire con questi due eventi in YLAB, ricordo solo l'origine dell'associazione, l'associazione Tiguglio Crea Impresa è nata dai founder delle start-up di YLAB e dai manager di YLAB, proprio per valorizzare il territorio, supportare il talento, dare uno spazio, una vetrina ai giovani. E quindi quando la società economica, i giovani della società economica ci hanno proposto questo evento, per noi è stato un onore abbracciarlo e supportarlo con le nostre forze. Quindi avrei tante cose da dire, ma mi limito perché il tempo è poco, siamo già leggermente in ritardo. Paola Grazie a tutti, intanto complimenti perché è un'iniziativa davvero coraggiosa, ma quando si pensa al futuro bisogna avere essenzialmente coraggio e i sogni. E i sogni sono quelli che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Prima si parlava di talento, ognuno di noi può conoscere o meno il proprio talento, uno degli scopi della scuola e di tutti gli attori che su un territorio occupano è quello di far sì che ogni ragazzo lo scopra o lo modifichi o abbia voglia di continuare a sognare un futuro migliore. Questa è una magnifica terra che ha bisogno di teste pensanti, di tanto cuore e ringraziamo pubblicamente perché aver coinvolto il liceo Marconi del Pino che è una realtà importante di questa parte di Liguria è davvero un orgoglio. Edizione zero perché ce ne saranno tantissime altre. Grazie, grazie a tutti. Partiamo quindi subito ora col primo momento. Avete visto all'interno del corredorio di Y-Lab delle bellissime fotografie e quindi lascio la parola ad Alessio Mancini e anche ad Alessandra Fontana che lo intervista. Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui e soprattutto grazie ad Alessio perché oggi mi permette di parlare di una cosa a cui tengo molto, in realtà di più temi. Uno in particolare, parleremo del nostro introterra, delle bellezze che forse non tutti conoscono, che quasi sicuramente i più giovani non conoscono e quindi è una cosa che mi fa veramente molto piacere fare. Però prima mi piacerebbe chiederti, visto che tu fai il fotografo, mi sembra abbastanza chiaro, e fai anche la guida, volevo chiederti come sono nate queste passioni, come le unisci e come ti senti quando le fai, quando le realizzi. Allora, va bene, intanto grazie prima di tutto per avermi inserito nella categoria Sueni, che mi sembra già un bel punto di partenza. Allora, vabbè, io mi chiamo Alessio Mancini, sono un geometra di professione e un fotografo escursionista per passione. Diciamo che in ordine la prima passione, quella primordiale è quella per la fotografia, ormai sono tanti anni, e diciamo che unendo le due cose, l'escursionismo e la fotografia, ho trovato modo di esprimermi in maniera, diciamo, piuttosto personale. Ecco, la passione per l'escursionismo è nata sostanzialmente dalla curiosità di conoscere un pochettino di più i luoghi che mi circondano, perché comunque il pensiero lo assorto spontaneo, cioè va bene, ok, guardo verso nord, vedo questi monti, ma sostanzialmente poi cosa sono, dove sono, come sono fatti. E quindi da lì, con il gruppo di amici, con la fidanzata, inizia a muoverti e piano piano ti rendi conto che, insomma, in quel mondo lì ci stai veramente bene. E quindi, proprio come dicevi, le sensazioni che poi provi in quel contesto, nella natura, sulle cime, sulle vette, sono proprio quella cosa che poi ti fanno capire che sei parte di quel mondo lì e che ne vuoi sempre di più. Secondo me succede qualcosa quando, per esempio, cammini nel bosco, non lo so, succede, ti riconnetti, è una cosa che è proprio difficile da spiegare, no? Sì, 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 no, non è facile spiegarlo a chi magari non ha, o non ha mai avuto la fortuna di provare certe situazioni, o comunque non ce l'ha come cosa propria, però, soprattutto con i ritmi che abbiamo ultimamente, con l'evoluzione che abbiamo avuto, della frenesia, del tutto e subito, staccarsi, avere un luogo di intimità dove c'è silenzio, che il silenzio è la cosa che apprezzo di più, pace, natura, senti solo il rumore veramente della natura, gli animali, il vento, gli alberi che si muovono e quello ti dà veramente la possibilità di stare con te stesso e se stai bene con te stesso è sicuramente un bel modo di connettersi, ecco. Vero, anche perché magari tanti pensano, chi non lo fa pensa che la cosa sia vado a bruciare calorie sul monte, se no vado a camminare, invece se lo fai ti accorgi che è veramente qualcosa di diverso e qui appunto vorrei parlare di tutti quei luoghi, io poi in particolare sono di parte perché vengo dalla Val d'Aveto e secondo me è una valle meravigliosa, è una valle... sono di parte, d'accordo? Io sono della tua parte. Ok, meno male. Ed è... e sono esattamente come tutti i miei compaesani, un po' divisa tra il che meraviglia, non c'è nessuno, perché diciamoci la verità, e il caspita, però come mai nessuno viene... se dici a un chiavarese andiamo sul monte a Iona, non ha idea di come sia fatto e perché è diverso da tutte le altre vette qua intorno? Ma guarda, allora, intanto questo conflitto interiore degli avettani è un po' anche il mio, nel senso che le persone che mi conoscono bene sanno che uno dei motivi per cui amo quei posti è proprio perché non c'è nessuno. Quindi è un po' un controsenso certe volte, però è chiaro che poi quando arrivi ad amare un posto hai anche il piacere che questo posto venga conosciuto e che anche le altre persone riescano a capire perché tu sei così, diciamo, legato a determinati luoghi ed è bello anche condividere la bellezza di certe ambientazioni. Hai preso un po' quello che è il mio punto debole, nel senso che io... poi ci sono molti a cui sono più legato, quindi la Iona, il ramaceto, chi mi conosce bene mi prende in giro, io ci sto più che volentieri allo scherzo. E come dici tu, il Monte Iona è un po' un unicum, nel senso che ha una conformazione montuosa e geologica, vegetativa, estremamente unica perché è proprio un panettone di brullo che è veramente una terrazza sul mare strepitosa e quindi è uno dei luoghi, appunto, secondo me, di maggiore unicità, ma dell'intero appennino perché poi, appunto, la particolarità è quella lì, cioè noi stiamo parlando veramente di un'eccellenza e quello che mi dispiace proprio è che sia estremamente sottovalutata. Infatti ho veramente accolto con entusiasmo questa occasione perché è una vetrina che io spero veramente che possa essere sfruttata. Aggiungo solo sulla Iona, un piccolissimo inciso, se avrete mai occasione di andare sulla Iona e speriamo tutti di sì, sulla mamma Iona, come la chiamiamo noi, è bellissimo il percorso perché puoi passare in mezzo ai cavalli, in mezzo alle mucche, è una cosa che non capita sempre. I famosi cavalli inselvatichiti, perché c'è chi li chiama selvaggi, ma guai a chiamarli selvaggi perché sono cavalli inselvatichiti e sono diventati un'attrazione turistica, questo horse watching, perché ormai è praticamente impossibile andare in quella zona e non trovarli, è veramente difficile. Quello sicuramente è un altro aspetto veramente interessante che è curioso, ecco. Assolutamente sì. Quando ci siamo incontrati noi abbiamo scelto di non fare una scaletta rigida perché i temi sono tantissimi e sappiamo di non avere tutto questo tempo a disposizione. La prima cosa che ci siamo detti però è stata proprio, parliamo di, giustamente, il tema dell'incontro turismo sostenibile e tu hai fatto una premessa giustissima che condivido dicendo tanto parlare di plastica per i sentieri, di sporcizia non serve quasi più e, meno male, sono pienamente d'accordo, mentre secondo me servirebbe però parlare anche un po' del mantenimento, dell'assegnatura dei sentieri, anche il grande lavoro che hanno fatto i ragazzi del sentiero dei Celti, per esempio, che hanno coinvolto proprio le persone chiedendo loro venite a segnare il sentiero che significa andiamo a pulire il sentiero, a fare il sentiero e l'ho trovata una formula veramente vincente perché le persone si sono sentite, uno coinvolte e due hanno fatto un lavoro che, se lo dicesse al tuo vicino di casa, di farlo gratis e non lo faresti mai perché poi è così. È forse questa la chiave coinvolgere le persone? Ma diciamo di sì, cioè la sostenibilità io per quanto riguarda soprattutto il nostro entroterra la vedo anche come presidio. Cosa vuol dire? Che comunque se ne parla anche tanto in altri termini, l'abbandono dell'entroterra comporta non solo la perita di posti di lavoro, l'abbandono di fabbricati o comunque, ma anche l'abbandono del territorio, quindi è normale che attività, iniziative come quella o comunque la promozione dell'escursionismo che quindi permetta alle persone di andare a presidiare il territorio, poi chiaramente portano a situazioni appunto. Il gruppo che va a segnare il sentiero che magari era sporco e inaccessibile fino all'altro ieri, la pulizia dei boschi, sì perché come dicevi tu nel 2023 in Italia fortunatamente il tema del non si butta la plastica nei sentieri c'è, grazie a Dio è quantomeno compreso, effettivamente non è che si vede, non si vedono cose scandalose fortunatamente, quindi bisogna fare un attimino uno sforzo ulteriore nella gestione proprio del territorio da un punto di vista di sostenibilità intesa come non abbandoniamoli da un lato e non sovraffolliamoli dall'altra, questa è un po' la chiave perché il territorio soffre tanto l'abbandono quanto il sovraffollamento. Ed era esattamente qui che volevo portarti, portare la gente sui nostri, sui sentieri dell'entroterra significa sì, certo, quindi presidiare un territorio, salvarlo eccetera, è tutto quello che abbiamo detto, ma dall'altra parte significa anche togliere centinaia di persone che questo territorio forse lo sfruttano anche troppo, no? Certo, io nella mia breve esperienza da guida di professione diciamo che ho toccato con mano un po' quello che è il problema attuale, ovvero Liguria, due punti, 5 terre, Portofino, fine, senza nulla togliere a quei posti che sono indubbiamente un'eccellenza e meravigliosi sotto ogni punto di vista, però ecco il problema è che poi gestendoli in quella maniera, ovvero sovraffollando di oltre ogni modo, mungendo la cosiddetta mucca perché i tour operator eccetera promuovono facilmente quei pacchetti, è chiaro che poi si va un po' a compromettere l'equilibrio di certi ecosistemi perché poi ricordiamo sempre che 5 terre, tante persone le vedono anche fortunatamente come itinerario escursionistico, allo stesso modo Portofino perché San Fruttuoso, Camogli, Portofino sono tutte collegate da sentieri che passano nei monti, quindi è veramente anche proprio le aree sentieristiche sono estremamente occupate e quindi quello di nuovo secondo me la capacità di alcuni tour operator o comunque operatori del turismo di riuscire da diversificare la proposta potrebbe essere un tema su cui lavorare, ecco assolutamente sì, la solita parola poi che ci vuole per realizzare ogni progetto è cooperazione, sinergia, noi chiaramente siamo qui e possiamo lanciare il seme, possiamo raccontare a voi che se alzate lo sguardo ci sono dei posti meravigliosi, appunto senza nulla togliere a Portofino, ma dei posti meravigliosi che vale la pena andare a vedere e magari chissà che col potere del passaparola certo ma anche perché poi quando mi capita di avere a che fare con i turisti che magari ti fermi nei punti panoramici e gli spieghi un po' quello che poi è la conformazione della Liguria, il territorio, le tradizioni, il cibo perché soprattutto i turisti stranieri adorano ovviamente questo aspetto, rimangono affascinati e allo stesso tempo oltre che affascinati un po' voglio dire increduli come dire ah ma c'è anche questo ma ci sono le montagne in Liguria e io mi dico eh sì è incredibile ma è proprio la caratteristica della conformazione geografica del luogo quindi vedo che manca proprio la diffusione di questa cosa qua e secondo me iniziare a parlarne, come dici impiantare il seme, avere la possibilità di queste cose qua per metterne evidenza anche questi aspetti è veramente importante, è veramente importante Ancora un piccolo passaggio su Reggio Aglio, non me ne vogliano le persone che sono di altri posti ma quando ci stiamo parlati hai citato un esempio che è quello della transumanza che secondo me è l'esempio lampante di che cosa funziona, non dico a costo zero però insomma è un'idea semplicissima che coinvolge tra l'altro anche persone molto diverse cioè famiglie, giovani Sì sì, come ti raccontavo quest'anno ho partecipato come diciamo seconda guida a questa iniziativa che va avanti da 3 o 4 anni, quindi un'iniziativa giovane transumanza molto spesso a Chiavari la associamo a quella più nota di Santo Stefano d'Avetto eccetera eccetera invece questa iniziativa appunto è una cosa un po' diversa perché prevede anche un'escursione e secondo me è una scelta vincente perché dà un po' la possibilità a tutti di godere dell'entroterra e di tutto quello che offre perché c'è una parte di escursione mediamente impegnativa veramente adatta praticamente a tutti ma l'escursione non è il fine perché poi appunto si parte dal lago di Giacopiane si seguono le mucche nella loro appunto transumanza si arriva al paesino di Villacella che è un vecchio borgo interessantissimo, ricco di storia eccetera eccetera e lì poi si sta all'agriturismo dove comunque si ha la possibilità di fare appunto un bel pranzo eccetera quindi diventa un'esperienza trasversale a 360 gradi che permette di vivere il territorio proprio in maniera profonda di entrare in contatto con le persone del luogo e ripeto senza appunto vedere l'escursionismo come troppo spesso secondo me si vede come ah io a camminare non ci vado perché non voglio fare fatica quelli sono degli esauriti io non ho voglia è anche tanto altro è anche tanto altro no e soprattutto sul discorso di prima di camminare di andare sui sentieri strasfruttati che sembra di stare in caruggio a Chiavari viene meno una delle parti fondamentali dello stare a contatto con la natura perché se è un sentiero sovrappollato o come cioè no il cammino non deve essere visto come il mezzo per arrivare dalla macchina alla vetta ma proprio come il fine cioè io vado a camminare perché camminando il cammino è veramente il miglior modo ovviamente dal mio punto di vista per godersi le cose quindi ci fosse anche una seggiovia è sempre meglio camminare questo discorso tutto chiaro ti va di commentare un po' di foto che hai fatto? che così sì sì questa qui è una foto che ho fatto un po' di anni fa siamo sul monte Aiona sono particolarmente legato a questa foto perché il monte Aiona viene sempre viene sempre diciamo equiparato a quello che può essere un panorama lunare per la sua caratteristica e quindi io questa foto qua io non ho mai titoli alle foto però questa foto qua per me è la luna vista dalla luna perché ero all'imbrunire perché diciamo che ancora il suero non era calato c'era questa luna rossa che mi ha colpito perché era veramente veramente forte e niente ho preso la macchina fotografica ho fatto la foto e trovavo questa attinenza tra il luogo fotografato e il soggetto che avevo fotografato quindi questo qua è il monte Aiona appunto diciamo in prossimità della vetta non proprio non proprio in cima però si vede diciamo una delle sue caratteristiche principali ovvero vegetazione bassa rocce prato questa foto l'ho scattata in inverno quindi stagione particolarmente secca e diciamo difficile ecco eh sì quella neve sei mai andato? sì io praticamente la Iona l'ho frequentato in ogni condizione possibile immaginabile cioè mi manca solo forse l'arcobaleno poi per il resto l'ho visto in ogni salsa però diciamo che le stagioni che preferisco sono indubbiamente l'autunno e l'inverno paradossalmente cioè semplicemente per una questione anche fotografica di colori pensavo lo dicessi perché così sei sicuro che non c'è nessuno anche brava anche per quello esattamente l'inverno c'è freddo la gente non cammina io sono da solo allora questa qua ok sì allora questo qua siamo nella zona del monte Penna il monte Penna è un po' vabbè il monte più conosciuto del nostro territorio perché è un po' la vetta madre no? infatti è l'unico posto che io trovo abbastanza spesso affollato sì confermo diciamo che l'escursionista medio quello dell'escursionista della domenica chiamiamolo così quando non sa dove andare va sul monte Penna ed è tranquillo non sbaglia perché è un posto meraviglioso questo scorcio qui ovviamente è uno scorcio autunnale perché si vede dai colori dai colori degli alberi e io sono fissato con questo angolo perché c'è questa bella visuale della strada che che si inoltra nel bosco con con il monte sullo sfondo è un po' il mio angolo di Canada mi piace mi piace definirlo così e niente quindi questa qui è appunto quella zona lì zona casermette del Penna che è un rifugio che magari tanti di voi conoscono ecco questo è l'altro è l'altro mio talone d'Achille oltre al monte Iona ovvero il monte Ramaceto questa qui è una foto che ho scattato col drone di recente quella lì è la cappelletta che c'è che c'è in vetta al monte Ramaceto la particolarità del Ramaceto è che praticamente è un monte fatto ad anfiteatro ed è piuttosto alto essendo molto ridosso del mare quindi spesso si trova in questa condizione ovvero con quello che io chiamo mare di nuvole che si va a scontrare contro i monti e da da questo effetto un po' di sospensione nell'aria io il monte Ramaceto anche lì Iona e Ramaceto per me sono sono proprio il giardino di casa mia cioè lì voglio stare io anche io quindi tra l'altro dico l'ultima se vi capiterà appunto di andare sulla Iona ci sono anche molte strade diverse quindi anche questo cioè non è mai nemmeno sempre lo stesso percorso esatto la rete escursionistica Ligure è estremamente ampia io magari dico novietà e mi perdonerete però la Liguria ha due tracce di sentiero due dorsali che uno è l'altavia spero che la conosciate spero che io stia dicendo una banalità mostruosa però una è l'alta via che attraversa tutta la Liguria da Levante a Ponente quindi da Ventimiglia fino a Follo Ceparana la parte dello Spezzino e passa diciamo su tutte un po' le vette principali e veramente è un percorso interessantissimo perché dà la possibilità di vedere scorci in altura ma sul mare ed è veramente la particolarità quello che mi sta a cuore a me dell'Appennino Ligure è proprio questo aspetto secondo me nessuno ha in Italia ma io ho camminato anche in tante parti del mondo e non ho mai trovato questa unicità la montagna sul mare indubbiamente ci sono montagne più belle delle nostre indubbiamente ci sono luoghi di mare più belli dei nostri ma la montagna sul mare è il camminare sui monti a 1500 1700 metri quindi in ambiente non voglio dire alpino però in ambiente estremamente appenninico con freddo esposizioni rocce vegetazione tipica dei monti e vedere sempre Portofino Sestre Levante la Corsica perché poi tante persone rimangono stupite quando si vede la Corsica dal lungomare io avrei il piacere di invitarli a vedere come si può vedere la Corsica dai monti perché forse forse non è chiaro l'estensione della Corsica quando la si vede dall'alto quindi questa veramente terrazza sul mare è una cosa eccezionale unica e io non mi stanco mai noi purtroppo abbiamo l'abitudine ad avere questo panorama davanti e quindi lo diamo per scontato però io faccio questo esempio che mi fa ridere sabato scorso sono andato sul Montaiona arrivo al rifugio di Pratomollo trovo un gruppo di fungaioli della Lombarda erano bresciani bergamaschi un forte accento della bassa ed erano meravigliati ma estremamente maestasiati dal fatto che dietro dal rifugio c'è un diciamo un avallamento dietro si vede il mare ma è il punto peggiore dove si può vedere il mare dalle nostre parti e loro sono rimasti lì a urlare tra di loro guarda guarda il mare è incredibile e noi lo diamo per scontato ma non è scontato è questo che vorrei il messaggio che passasse cioè godiamoci i posti per quello che valgono veramente e non guardiamoli con gli occhi ormai esatto dall'abitudine questo qui è il vero messaggio che vorrei trasmettere non c'è conclusione più bella io spero che insomma siamo riusciti a invogliarvi a esplorare qua vicino e ringrazio Alessio ringrazio tutti voi e grazie a tutti voi grazie a voi grazie grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti